Buon pomeriggio a tutti, siamo qui al Lanco Marzio di Ossia Rito per la sfida amichevole tra l'ostiamare di Paolo Caputo e la rappresentativa della Serie B del Gironne G, punto del campionato che vede i protagonisti di Bianco Viola dell'ostiamare. Andiamo appunto i ragazzi che hanno iniziato da poco questa sfida amichevole qui a Via Amendoli sul prato del Lanco Marzio con i ragazzi della rappresentativa in maglia bianca e pantaloncini scuri mentre la solita classica Bianco Viola per il team di Paolo Caputo. andiamo a questo momento proprio il gol dell'ostiamare, l'ostiamare in vantaggio con Piro peraltro match winner domenica scorsa contro il Porto Torres Dicevamo appunto della presenza di tre ragazzi dell'ostiamare nella rappresentativa di Serie D regionale infatti abbiamo il Barbieri, De Nicolò e Molfesi che appunto oggi vestono la casacca della rappresentativa e sfidano quindi i loro compagni di squadra dell'ostiamare. andiamo